La fibrillazione atriale è attualmente la forma più comune di aritmia cardiaca e continua ad aumentare l'incidenza e prevalenza, anche quando si considerano fattori come l'invecchiamento della popolazione e la presenza di patologie cardiache strutturali. Questa condizione rappresenta una seria minaccia per la salute individuale e la sostenibilità dei sistemi sanitari, poiché comporta un aumento del rischio di ictus cerebrale di 6 volte e una duplicazione del tasso di mortalità. Pensate che anche dopo aver tenuto conto di tutte le possibili comorbidità, il rischio rimane elevato di oltre 1,5 volte. Questo rischio addizionale è principalmente attribuito a eventi cardiovascolari, progressiva disfunzione ventricolare e un aumento della mortalità coronarica. Uno studio recente pubblicato sulla prestigiosa rivista European Heart Journal ha confermato che al di là dei fattori non modificabili come l'età e il sesso maschile, l'ipertensione arteriosa, il sovrappeso, il fumo, il consumo di alcol e la sindrome di apnea notturna sono tutti fattori indipendentemente associati a un aumentato rischio di sviluppare fibrillazione atriale. Quindi ripeto, ipertensione arteriosa, sovrappeso, fumo, consumo di alcol e sindrome di apnea notturna sono fattori indipendenti per lo sviluppo della fibrillazione atriale. L'ipertensione arteriosa è in particolare il fattore più significativo aumentando non solo il rischio di fibrillazione atriale di 6 volte ma anche tante altre patologie. Infatti la pressione arteriosa sistolica è un potente fattore di rischio non solo appunto per la fibrillazione ma anche per l'infarto del miocardio, lo scompenso cardiaco, l'ictus ischemico ed emorragico per demenza e per patologie renali. E questa, questo aumento della pressione sistolica tende ad aumentare con l'età, cioè aumenta con l'età soprattutto nelle nazioni industrializzate. Infatti in area del mondo dove le persone si muovono regolarmente, quindi non è che fanno attività fisica, hanno un'attività fisica importante per motivi ovvi e consumano delle diete prevalentemente a base di vegetali, legumi e cereali integrali minimamente processati, associate al consumo dato di pesce e frutta come dessert. Questo, in queste popolazioni, l'aumento della pressione sistolica non avviene. Infatti in alcuni studi che abbiamo fatto nelle persone in restrizione calorica vediamo che con nutrizione ottimale, che consuma tutti questi cibi ad alto condotto di fibre vegetali, la pressione arteriosa rimane bassa, intorno a 160 anche in quelli che hanno 70-80 anni. Quindi mantenere la pressione arteriosa sistolica entro un range salutare, che le nuove guide ci dicono essere inferiori ai 120 mm di mercurio è di fondamentale importanza. Pensate che alcuni studi emergenti suggeriscono persino che una pressione arteriosa sistolica veramente ottimale dovrebbe essere più bassa di quanto precedentemente ipotizzato, cioè dei 120, con il rischio di sviluppare malattie cardiache e cerebrovascolari che inizia addirittura, pensate bene, a partire da 90 mm di mercurio di pressione sistolica, sì, 90 mm. Tuttavia è importante sottolineare che questo risultato può essere ottenuto solo attraverso un insieme di stili di vita sani, quindi una dieta sana deve essere associata con altre patiche salutari come un programma ben disegnato di esercizio fisico aerobico che ci permette insieme alla dieta di mantenere una circonferenza vita bassa e preservare la massa muscolare soprattutto, come ho già detto in altri video, dei muscoli gluteo-femorali che sono i più importanti e metabolicamente attivi. È altresì importante sottolineare, perché questo è un messaggio importantissimo, che l'allenamento fisico, l'attività fisica anche intensa da sola in assenza di una dieta sana e bilanciata non porta a una riduzione sostenuta della pressione arteriosa, anzi nel lungo termine potrebbe comportare l'effetto contrario, come alcuni dei nostri studi dimostrano. Oltre all'adduzione di una dieta povera di calorie vuote ma ricca di fibre, vegetali, potassio, magnesio, acidi grassi e omega 3, che sono i fattori fondamentali per mantenere la pressione bassa e naturalmente un basso consumo di sale, è estremamente importante riequilibrare il sistema nervoso autonomo, rafforzando la componente parassimpatica invece inibendo il simpatico, cioè il sistema catecolaminergico, anche attraverso mirate tecniche di respirazione a bassa frequenza e pratiche di meditazione che promuovono il benessere psicologico ed emotivo. Vi do alcune novità, alcune chicche scientifiche recenti. Esistono altri nuovi interventi che potenzialmente possono essere associati per controllare la pressione e mantenerla bassa e sana. Uno di questi, sono due, uno di questi metodi è l'allenamento ad alta resistenza dei muscoli inspiratori, una forma di allenamento fisico alternativo che richiede pochissimo tempo. Questo approccio praticamente coinvolge l'uso dei muscoli diaframmatici e di altri muscoli respiratori attivati durante l'inspirazione contro resistenza. Il segreto è praticamente respirare contro resistenza. Alcuni studi indicano che eseguire per circa 30 respiri per sessione, che richiedono non più di 5 minuti al giorno con uno strumento che si può acquistare, che costa poco, qualche decina di euro, è uno strumento portatile che si può usare per respirare, inspirare contro resistenza per 5-7 giorni alla settimana. Quindi fare 5 minuti al giorno con questo dispositivo per 5-7 volte alla settimana, per 6 settimane in questi studi ha causato una sorprendente riduzione della pressione arteriosa sistolica di ben 10 mm di mercurio e un notevole miglioramento della funzione endoteliale misurata con l'FMD. Un altro intervento molto molto interessante è la terapia passiva con il calore, che comprende pratica come la sauna, la sauna finlandese o il bagno turco oppure la hot tub, cioè praticamente l'immersione in una vasca idromassaggio con acqua calda. Sembrerebbe che questo intervento possieda delle interessanti attività anti-ipertensive adiuvanti. I dati preliminari di uno studio clinico pilota condotto nel laboratorio del mio caro amico Doug Seals a Denver indicano che l'immersione dell'intero corpo, naturalmente con la testa fuori, cioè le spalle completamente immerse con la testa naturalmente fuori, in una vasca di acqua calda con una temperatura di 40,5 gradi centigradi, che è in grado di elevare di un grado centigradi, la temperatura corporea interna, per 60 minuti, 3-5 volte alla settimana, per 8-10 settimane, è in grado di abbassare la pressione arteriosa sistolica di ben 9 mm di mercurio, quindi è un potentissimo effetto antipertensivo. Oltre che Doug ha dimostrato che questo intervento è in grado di migliorare la funzione endoteliale e la rigidità delle arterie valutate con la pulse wave velocity, che è il gold standard per misurare l'arterial stiffness. Quindi insomma due interventi molto interessanti che comunque devono essere accoppiati a una dieta sana e attività fisica e ad altre tecniche respiratorie e di training cognitivo, perché non ci interessa soltanto ridurre la pressione, ma come ho sempre detto ci interessa modificare a 360 gradi lo stile di vita, perché appunto possiamo ottenere delle modifiche, dei cali ponderali con una dieta iperproteica o chetogenica, ma a lungo andare andiamo a fare una disruption del microbritestinale con una selezione di batteri che promuovono l'infiammazione, malattie autoimmunitarie, malattie infiammatorie croniche. Quindi insomma questi shortcut, questi simple interventi che diverse persone promuovono sui social sono potenzialmente pericolosi. Quindi ci vuole un approccio mirato, basato sull'evidenza scientifica, naturalmente olistico e guidato da medici preparati. Insomma, per riassumere, anche se la pressione arteriosa elevata appunto è solo uno dei fattori di rischio associati alla fibrillazione atriale, un programma di stile di vita attentamente elaborato e pianificato, basato su soliti principi scientifici meccanicistici, può drasticamente ridurre l'accumulo di danno metabolico molecolare al sistema, come ho già spiegato in altri video. Inoltre può prevenire la stragrande maggioranza delle patologie più comuni che ingolfano i nostri ospedali e questo approccio non solo favorisce la salute e la longevità, questo approccio olistico di cui ho parlato nei miei video e nei miei libri, non solo favorisce la salute e la longevità, ma soprattutto amplifica il benessere globale, il benessere emozionale, spirituale e ambientale. In sostanza il messaggio finale, amici, è che la scienza della prevenzione e della longevità in salute sta progredendo rapidamente ed è quindi giunto il momento di cambiare la narrazione. Dobbiamo passare da modelli incentrati sul controllo e trattamento delle malattie croniche a modelli focalizzati sulla promozione della salute cronica, quindi il futuro è medicina che promuove salute cronica. Questi modelli mettono in luce il potere straordinario degli stili di vita e utilizzano le migliori evidenze disponibili per tradurre il potenziale in risultati reali anche usando le tecniche di IT e di intelligenza artificiale, tutti questi multi omics che nei prossimi anni ci permetteranno veramente, grazie ai wearables e ai sensori, di misurare in maniera personalizzata l'efficacia dei diversi interventi sulla nostra salute personale. Dobbiamo quindi spostare l'attenzione da un sistema sanitario top down a un nuovo e innovativo approccio di cura individuale e personalizzata, bottom up, che rivoluzionerà il panorama sanitario in modo che le future generazioni potranno permettersi questo sistema e di conseguenza sostenere questo nuovo sistema sanitario che promuoverà salute liberando ingenti risorse economiche da investire nello sviluppo economico sostenibile e nella salute globale, emozionale, artistica, culturale e spirituale delle società future, dei cittadini futuri del mondo. E con questo vi saluto come sempre, sono Luigi Fontana, professore di medicina e direttore scientifico del Charles Perkins Center dell'Università di Sydney e del Sydney Local Health District Hospital, RPE Hospital, sempre di Sydney. Questo è il canale della longevità e della salute, LongevityNow, LongevityNowFL e a presto.